buongiorno 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 la signoria tu dove vai? ma che è stu trenote che stai passando qua con tutti stu bambini, stu fai via? ma stamattina il suo paese è tutt'un fra il suo vogliono che vanno, vogliono che vengono, chi ti sa perché sono? che gli è? e hanno fatto tutti sti sciucchi, i gambello Rosè, Rosè, ora stanno passando, vieni vieni che sono queste bandyati? Oh, che sono i fan diati? Oh, che sono i fan diati? Aiutiamo questi ragazzi a vedere che vogliono fare. Diciamo una mano e si divertono. E cominciamo a fare questo bel paese nostro. Allora, mi stanno facendo questa cosa. Passano tutto. Fai una continuazione. Vai a mettere le scarpe. Faccio il rumore. Vai. Allora, Benedetto. Aspetta, devo parlare a Benedetto. Benedetto. Lei ti ha appena detto che hai passato tre roti che lo fanno dietro. Prova uno, vai! Vai, Gio. Vai, Gio. Che cazzo. Vai. Adesso insieme. Perfetto. Gira di verso Fabio. Così. Passa, no? Ok. Vince? Va. Rifate tutto come prima. Un'altra cosa che quando siete qua vi passate a fianco alla telecamera. In silenzio che si sentiranno le ruote. Prima. Tre, cinque secondi. Tre, cinque secondi. Tre, cinque secondi. Perfetto. Quindi è giusto che lo facciamo. No, sta ancora registrando. Vieni. 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 E gliela ritiri magari a Michele o a lui che è il nome? Dominic. Vieni. Pannaggia. Maria ti passa la pallona, la passa a Michele o a lui, poi voi la ripassate a lei, facciamo due tipi, chi sei Dani? Aspettate un attimo ragazzi, se riesci a non prendere la tua ombra, e riprendi, riesci? Chi sei? Vai, un attimo che ci dobbiamo! Bella, brava Roberto! Vai! Aspettate! 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 Oh, che sai, fanno dietro! Giovanni! Ma non ti vedi? Si vedono le mani! Qui! Qui! Fali passare! Fali passare! Qui! Giovanni, qui! Cosa ne pensi di queste fandiadi? Eh, penso... Oh, ma che so questi fandiadi! Ma no, ma questo scherzoso! Oh, ma che so questi fandiadi! Chiuse, chiuncazzata! Oh, ma... Così che guardi un po' di giri ingazzato per... Vai! Oh, ma che so questi fandiadi! Salut! Grazie.